Allora mister Rosselli, Giorgio Rosselli di Montone, tu sei un Umbro, è qui stasera 0-0, ma sento i colleghi lì di San Benedetto che non sono contenti del pareggio, invece lei mister, me lo ricordo quando allenava il Pavia, Pavia Tarnala al 0-0 qualche anno fa, sempre in Serie C, si ricorda? La Ternana ha vinto il campionato. Infatti c'era Toscano nel 2012, però come ha visto questa partita nel contesto generale per entrambe le squadre? Ripeto, la Ternana è un rebus, rebus perché vedere questa squadra che ce la mette tutta a calciatori e allenatori che sono passati di ottimo livello, hanno come dicevo una tecnica a tutti i calciatori che in questa categoria non ce l'ha quasi nessuno, il rebus è il campionato che sta facendo. Però io ho sempre detto che questa è una squadra che se si ritrova da un punto di vista di squadra, di qualche risultato, ai play-off sarebbe una delle squadre da battere. Certo, questo problema sta andando per le lunghe, dunque è normale, più va per le lunghe, più il problema da risolvere è più difficile. Su questo non ci piove, ma sulla qualità di questa squadra non c'è dubbio che ce n'abbia tantissima. Per Asambe invece? Noi abbiamo un altro sistema, abbiamo altri giocatori, abbiamo completamente una situazione completamente diversa. Questi ragazzi che io ho preso dopo poche partite, alla decima partita anche con me, erano ultimi in classifica e adesso ci troviamo invece a giocare per qualcosa di importante. Vogliamo arrivarci, ce la metteremo tutta fino in fondo. Abbiamo un calendario pazzesco, quasi tutte le migliori, le prime cinque fuori casa, compreso la Ternana. Adesso abbiamo Vicenza in casa, poi andiamo doppia trasferta a Feralpi e Trieste, poi Alto Arige, insomma sinceramente è un calendario difficilissimo, però noi abbiamo dei ragazzi fantastici che non mollano mai, se uno lo fa giocare perché abbiamo anche problemi di ruolo, sinceramente, perché è stata un po' costruita, come dicevo io, un po' a quattro mani all'inizio dell'anno e abbiamo tanti giocatori magari in un ruolo, nessuno in un altro. Ci stiamo adattando tutti, io per primo, però questi ragazzi veramente meritano soltanto applausi perché li metti in fuori ruolo e tutti danno il 100%. Questa è la mia grande soddisfazione. Vista, rispetto alla partita di dieci giorni fa, oggi ha adottato un centrocampo un po' più di livello rispetto ai giocatori signori che ha un po' più di rottura oggi, comunque ha cercato un po' più di giocare rispetto a Riviera delle Palme dove ad esempio ha messo anche Fissore in marcatura su Furlanna per contenerlo, Fissore che non è comunque un esterno di centrocampo ma un difensore, infatti oggi l'abbiamo visto lì. Quindi oggi un po' più viso aperto, è andata bene per i primi minuti con quel colpo di testa di stanco, poi che cosa è successo? Un pochettino il baricentro un po' più basso della sua squadra, è salita forse un po' più la Ternana? La Ternana dopo è salita, noi eravamo un po' stanchi, onestamente abbiamo giocato a Pordenone con il viaggio, è stato pesante, a 7 ore andare 7 ore a tornare, Fissore ha giocato lì perché la Ternana, io mi aspettavo 4-2-3, invece volevamo giocare 4-2-3-1, poi abbiamo spostato dietro Gelonese, l'unico mancino che abbiamo che si adatta un po' perché il titolare è Cecchini nel ruolo di Fissore, questo era uno degli arrangiamenti, però Fissore che è un centrale, qualche volta fatto il quarto si adatta a fare il quinto e gioca al meglio delle sue possibilità, ripeto è il discorso che facevo prima, non è solo quello che gioca un po' fuori ruolo, ci sono anche altri, è difficile però non abbiamo alternative, questi sono i miei ragazzi che non mollano mai, che giocano i ruoli che non hanno mai fatto nella loro carriera. Fissore fa un po' di tutto perché poi a Pordenone ha replicato se non erro al gol di Cavazzi e quindi ha centrato il pareggio per la Samp, Glecci ha dei giocatori molto utili, anche Russotto fa la seconda punta, trequartista, centrocampista, quindi è una squadra diciamo, se lei non si offende la definisco un po' camaleontica che riesce a cambiare pelle nel corso di una partita o rispetto alla precedente? Quello che dicevo prima, il mio ringraziamento a questi ragazzi che non uno, come ho sentito dire magari qualche volta fuori ruolo, noi abbiamo addirittura tre o quattro spesso e questi ragazzi rendono sempre al meglio, è normale che Fissore quinto è meno bravo in fase offensiva di Cecchini o di Rapisarda, ma su questo ci mancherebbe anche quello, però ripeto, la mia soddisfazione, la mia gioia è che questi ragazzi dove li metti cercano di dare il 100%, poi qualche volta lo fanno nel modo giusto, qualche volta sbagliamo qualche appoggio di troppo, proprio perché è proprio il ruolo che non è quello, però vedere Russotto che gioca a mezzala e ogni volta che gli grido qualcosa mi va nella posizione dove deve andare uno giocatore che ha fatto 250 partite fra ABC, è una grandissima soddisfazione. Per il salto di qualità della sua squadra, la continuità del risultato? Sì, e poi riavere tutti i giocatori a disposizione anche al 100%, con i cambi giusti, qualche giocatore adattato ma non troppo e poi sono convinto che se noi centriamo questo obiettivo che era isperato, che per adesso ci dobbiamo credere, pur avendo un calendario difficile, possiamo essere fastidiosi perché è una squadra, ripeto, che dentro il campo dà tutto. Grazie mister, bocca al lupo.